Musica Don Alessio, anche per voi della diocesi di Prato, è iniziato ufficialmente ieri con la messa ad inaugurazione questa giornata mondiale della gioventù a Madrid. Come sta andando? Un'esperienza bellissima, straordinaria, i ragazzi sono carichi, sono contentissimi, rispondono a tutto quello che gli stiamo proponendo, è davvero un momento di grazia, un momento bello, di comunione per noi e speriamo di proseguire con questo clima di gioia. Come avete vissuto le giornate delle diocesi? Dove eravate alloggiati? Sì, eravamo alloggiati a Valencia, eravamo alloggiati dentro una palestra e nonostante però il dover condividere gli spazi, le docce, però anche questo ci insegna a diventare più attenti anche gli uni e gli altri, per cui anche questo è stata un'esperienza bella alla fine. Della messa di ieri qual è stato il momento che ha colpito di più i suoi ragazzi? Forse quando hanno ricevuto la comunione, perché ho visto tanti che si sono commossi, così in maniera inspiegabile, però è stato un momento molto forte quello lì. Ilaria, siete da poco arrivati a Madrid, come sta andando questo primo momento di questa GMG? Per ora è bene, tutto bene, abbiamo visitato un po' la città, ci siamo ritrovati con altri ragazzi da tutto il mondo, è stato molto bello, abbiamo preso la messa solenne per la piazza di Madrid e sta andando tutto bene. Quanti siete del vostro gruppo? Noi siamo 16, però tutta Prato in generale sulle 200 persone. Quale clima si respira tra voi, ovviamente anche se avete fatto già conoscenze con altre persone di altre nazionalità? Un clima di grande felicità, tutti molto contenti, tutti emozionati per essere qui e tutti felici di condividere le loro esperienze con gli altri. Ma concretamente avete effettivamente conosciuto qualcuno, vedo che avete dei gadget, dei braccialetti, di varie nazionalità, come è andato questo primo incontro? Sì, è tutto molto semplice, anche se parliamo lingue diverse siamo riusciti a scambiarci bandiere, gadget, spille, cose così e ci capiamo subito. Cosa ti aspetti per i prossimi giorni? Sai già se ci sono delle cose in programma, c'è qualcosa che ovviamente aspetti con più emozione? Sicuramente aspetto con più emozione l'incontro con il Papa e immagino che ci sarà ancora molta più gente rispetto a quella che abbiamo visto e quindi spero di conoscere ancora più gente e di vedere ancora altre realtà. Filippo siete ormai al secondo giorno di questa avventura madrilena, quali le emozioni? Emozioni tantissime, un'esperienza veramente fantastica perché anche se è la seconda che vivo perché ho già fatto colonna, però il clima spagnolo voglio dire molto più coinvolgente forse a livello tedesco. Cosa c'è di diverso? Di diverso c'è sicuramente, c'è un'esperienza diversa e quindi voglio anche partecipare più attivamente rispetto alla scorsa. E quindi c'è questa volontà anche di fare conoscenze con le altre persone, di scambiare anche le proprie esperienze, condividerle. A livello spirituale quali sono stati i momenti più forti? Ci sono delle domande con le quali sei partito e a cui stai cercando una risposta e pensi di trovarla qui a Madrid? Più che domande forse è andato insieme a un gruppo, è anche una conferma di quello in cui crediamo, come portiamo avanti un gruppo, ma anche un rafforzamento del nostro gruppo, una coesione, una cosa importante. Una bella esperienza per rafforzarci. Prato sta facendo davvero comunità? Sì, sta facendo comunità, ci stiamo conoscendo, già il viaggio in nave ci ha fatto provare delle belle esperienze e ora stiamo continuando a crescere insieme. Cosa vuoi dire a chi è rimasto a casa che magari in questo momento ti sta guardando? A chi è rimasto a casa, io dico, tutto pazzesco e quindi si sono persi tante volte. Eleonora, come vi eravate preparati per questa giornata mondiale della gioventù e le aspettative sono effettivamente, concretamente poi si stanno esadendo? Sì, abbiamo fatto degli incontri e penso che ognuno avesse come obiettivo quello sicuramente di trovare una conferma, come hanno già detto, e di mettere a confronto anche la propria realtà con le realtà di tutto il resto del mondo, perché comunque se stiamo qua è perché siamo tutti qua per un motivo comune.